Terza edizione per il Cosenza Comics and Games, fiera del fumetto, dell'animazione e della cultura pop che per tre giorni fino a domani animerà la città dei ragazzi. Un appuntamento patrocinato dall'amministrazione comunale che gode anche della presenza di ospiti internazionali. Migliaia di persone provenienti anche da fuori regione si stanno ritrovando alla città dei ragazzi perché veri e propri appassionati di fumetti o semplicemente per immergersi in un'atmosfera fortemente suggestiva e occasione di grande divertimento. Nello scrigno blu sono ospitati i giochi tra console di ultima generazione e retro gaming, previsti anche diversi tornei. Lo scrigno rosso, dedicato invece all'arte e al fumetto, ospita anche delle mostre e diversi artisti. Lo scrigno giallo è il padiglione dedicato al cinema e all'intrattenimento. A fronte di un contributo libero può anche essere ritirato il braccialetto Cosenza Comics & Game Go, un gadget esclusivo a tiratura limitata, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'associazione Bracciatese, impegnata in azioni umanitarie in Ucraina.